Le coltellate, la violenza con cui Fabrizio Biscaro si è scagliato contro Elisa Campeola all'isola dei morti di Moriago, uccidendola, riportano alla mente l'aggressione subita a fine marzo da Marta Novello a Marocco di Mogliano per mano di un ragazzo di appena 15 anni. Anche qui, se non fossero intervenuti due operai di passaggio, si sarebbe potuta consumare una tragedia inspiegabile. Purtroppo c'è un po' di analogia tra questi fatti, queste persone che, ahimè, impazziscono e commettono quello che hanno commesso. Sono cose inspiegabili, purtroppo la mente umana a volte fa questi scherzi, è difficile, è difficilissimo intercettare queste persone. L'aggressione a Marta da parte di un adolescente da tutti descritto come mite lo dimostra. Anche il ragazzo di Mogliano, insomma, che ha commesso questi atti prima di quell'atto contro la ragazza, non aveva assolutamente dato segni di disquilibrio o altro. Purtroppo il Covid ha accentuato, ahimè, questi comportamenti. Le strutture, dice Bortolato, ci sono. La differenza la fa l'occhio vigile delle famiglie rispetto ai singoli casi. Serve molta attenzione, soprattutto anche i familiari devono accorgersi e segnalare i servizi sociali dei comuni. Bisogna monitorare assolutamente e cercare in qualche modo di prevenire, anche se purtroppo la mente umana a volte è imprevedibile.